Buongiorno, Edoardo Danesi, responsabile di Sam & Screaming in Italia, quindi le motivazioni che ci hanno spinto a partecipare a questo evento sono per il tutto di conoscenza personale con la famiglia Malavolti da numerosi anni, le collaborazioni che abbiamo avuto nei vari anni per il settore della verniciatura, nonché il fatto che noi stiamo rilanciando quello che riguarda le attività nel settore della polvere e quindi la motivazione specifica era quella di prendere contatto con aziende, produttrici, impianti e polveri nel settore. Troviamo che questo tipo di iniziativa sia molto piacevole in un ambiente che è totalmente diverso da quello che sono i soliti convegni e quant'altro, qualche molto più stimolante da un punto di vista visivo. Per quello che riguarda l'interesse confermo l'interesse soprattutto per quelli che sono anche i settori che sono a noi vicini e a cui spesso e volentieri poi non abbiamo conoscenza specifica del settore come i trattamenti, i pretrattamenti, i trattamenti degli smaltimenti, dei fanghi, tutto quello che comunque è lontano dal nostro perimetro e può sempre essere un'occasione di formazione, quella di ascoltare ciò che gli altri hanno da direci.